Musica Prosegue l'impegno del Ministero dell'Ambiente per la sostenibilità nella vitivinicoltura italiana con Viva Sustainable Wine. Il progetto, nato nel 2011 come pilota, promuove un modello produttivo che rispetti l'ambiente e tuteli la qualità dei vini italiani. Noi con questi protocolli volontari, quindi l'azienda che decide di adattarsi agli standard che noi diamo nella produzione, ottiene un multivantaggio perché risparmia il territorio, risparmia l'utilizzo delle materie prime, rende il suo ciclo di produzione più economico e vende meglio. Noi da parte nostra come ambiente riusciamo a fare quello che è la nostra missione primaria, quella di rispettare l'ambiente. Risulta palese come agricoltura, ambiente e produzione sia un trinomio che è destinato ad andare d'accordo. Questa è la grande novità di questo periodo storico che stiamo vivendo. Musica Musica